Qual è la carta o il conto che mi conviene fare di più? È meglio avere un conto o più di un conto? Mi conviene cambiare conto se c'è un'offerta più conveniente? In questo video parliamo di carte e conti. E non è sponsorizzato da nessuna carta e nessun conto, pensate. Il motivo per cui faccio questo video è perché 4 o 5 anni fa ho fatto un altro video che si chiama Come scegliere la propria carta dove metto a confronto un po' tutti quanti i conti smart che nascevano in quegli anni. Ed è un video che funzionava al tempo ma ormai è molto obsoleto. Quei dati sono superati perché le funzionalità delle vere carte, le commissioni cambiano di anno in anno, cambiano sempre. Però il video continua a fare views, ormai è arrivato quasi a 700.000 views, le persone lo guardano ancora ma non è più corretto. Per cui faccio questo video aggiornamento. Con la differenza che sì, parlerò anche di prodotti, di vari servizi diversi, li mettiamo a confronto, ma non è quello il focus principale perché oggi può essere più conveniente una carta e domani un'altra in base a chi ha più soldi da spendere nel marketing. Non ha senso scegliere una carta in base all'offerta più ghiotta? Quasi mai. Ma cerchiamo di capire più alla base qual è il principio per cui scegliere il proprio conto o la propria carta. Io in realtà ho appena fatto un video intero che si chiama Come gestisco i miei soldi dove spiego tutti i miei conti, tutte le mie carte, i broker, la filosofia dietro, però quello che faccio io. Questo serve più in generale. Inoltre non sempre io faccio la scelta più intelligente o più conveniente. Sono anche un po' pigro. Comunque, partiamo dalle basi. La persona media, per gestire i propri soldi, ha bisogno semplicemente di un conto o di una carta. Sul conto ci accredita lo stipendio, ci fa bonifici importanti, ci tiene la liquidità, ci paga i bollettini e gli F24. Il conto corrente ha senso farlo su una banca tradizionale. Dopodiché la carta invece ha senso farla separata con un conto smart. Quindi il classico conto carta smart. Revolut Hype, N26, Tineba, eccetera, eccetera. In questo modo di fatto avete due conti di cui uno ha la funzionalità da conto corrente e il secondo la funzionalità da carta. Cioè, che funzionalità? Mettere le cifre per le piccole spese, prelevare i contanti, pagare all'ATM, pagare per tubire i propri amici, rimborsarli per le pizze, queste cose qua, e tutte le cose che fai con la carta. Se avete però più soldi e dovete quindi iniziare a investire, dovete anche avere un conto titoli, che non è altro che un broker oppure un conto titoli nella vostra banca, volendo un conto deposito, ora che i tassi di interesse sono alti, sono ricomparsi tutti quanti i conti deposito che offrono il 3 e il 4% di interesse sul capitale depositato. Però queste sono cose leggermente più avanzate. Un altro strumento che può essere importante è la carta di credito, che è inutile per la maggior parte degli italiani, ma che si rivela utile solamente, per esempio, quando devo affittare delle auto, specialmente all'estero, quando affitti l'auto si chiedono la carta di credito e non puoi utilizzare la carta di debito, cioè il bancomat, o la carta conto smart, che è sempre una carta di debito, difatti. Oppure, chi viaggia tanto, spesso si fa la American Express, come ho fatto io, tra l'altro, mi sono dimenticato di dirlo nel video dei miei soldi, perché ci sono un sacco di vantaggi che magari dopo vi racconto. In America tutti utilizzano la carta di credito, perché là c'è un sistema completamente diverso. Per l'americano la carta di credito è utile per costruire il proprio credit score. Qua in Italia non funziona proprio così. E l'italiano medio non si indebita con la propria carta di credito per comprare cose in anticipo, per cui la utilizziamo veramente poco. La carta che chiamiamo invece carta bancomat è una carta di debito, cioè nel momento preciso in cui paghiamo i soldi vengono presi dal conto. Mentre con la carta di credito i soldi ci vengono anticipati e poi sarà solo in un momento del mese che noi dovremmo ripagarli. Tutti insieme quelli del mese. Ora, in base all'età e a quanti soldi abbiamo, noi apriamo in ordine prima di tutto il conto smart. Cioè, se abbiamo 2000 euro di patrimonio in totale e magari ancora neanche abbiamo uno stipendio, ha senso gestirlo tutto in interezza in un conto smart, come può essere Tina, Barre, Evolut, N26, Hype, Buddy Bank, questi qua. Sono tutti comunque conti solidi, sicuri. Ci si può fare in realtà tutto, perché la maggior parte di questi hanno Liban, quelli si possono ricevere bonifici, con la maggior parte di questi si possono anche pagare i bollettini, quindi si fa tutto. Forse l'F24 vedo che con alcuni conti carta non si può pagare, quindi le tasse, in parole povere. Infatti, appena iniziamo a lavorare, appena iniziamo a percepire un po' più di soldi, ha subito senso invece aprirsi il vero e proprio conto corrente con la banca tradizionale e affiancare conto corrente e conto carta. Se andando avanti poi abbiamo ancora più soldi, si apre tutto il resto. Quindi il conto deposito, nel caso ci siano come adesso conti deposito che rendono tanto, il conto titoli, quindi un broker per fare i propri investimenti, e basta. Ok, partiamo per ordine. Come si sceglie un conto corrente con una banca tradizionale? Vediamo un po' quali sono i punti da guardare. Il primo punto è sicuramente la solidità della banca, perché, sebbene la maggior parte delle banche non falliscono, è successo che in Italia fallissero delle banche, comunque ci fossero problemi. È vero anche che i conti italiani, con tutte le banche, sono garantiti fino a 100.000 euro. Però non vorrei comunque ritrovarmi nella situazione di dover chiedere quei soldi indietro, chissà quando arrivano, chissà come funziona. Inoltre, farsi un conto con una delle banche principali, come Intesa, Unicredit, BPR, BPM, Mediolanu, Bancasella, che sono tutte le banche principali italiane, non solo, secondo me, è più sicuro, ma probabilmente avranno anche delle app migliori, funzioneranno meglio, perché sono aziende più grandi con più clienti. Una banca grande non è necessariamente solida, pensiamo al caso di Monte dei Paschi di Siena, però, insomma, online si trovano facilmente le liste delle banche più grandi e poi tra quelle più grandi possiamo vedere quali sono le più solide. Una cosa che do per scontata è che con questo conto corrente italiano dobbiamo avere un IBAN italiano. Non facciamoci il conto con Revolut in Lituania come conto principale. O meglio, sì, se abbiamo 19 anni, abbiamo appena iniziato, poi dopo basta. Bene, dopodiché avremo qualche opzione, intesa, una credit, sella, di queste qua che ho detto, andiamo a vedere quali sono i piani più economici. Ci interessa il canone del conto, infatti il conto corrente spesso non è gratis, è a pagamento. Io per fare questo video pensavo che il mio conto con Mancasella fosse gratis, invece mi sono reso conto che lo pago un euro e mezzo al mese. Vabbè, 18 euro l'anno, che è giusto così. Però se dovessi partire adesso mi farei un conto gratuito, onestamente. Anche perché ho 26 anni e quindi sono under 30, anche se non sbaglio mi permette di avere il conto gratuito con Fineco e sono anche under 35 che se non sbaglio mi permette di avere il conto gratuito con Intesa San Paolo. Un'altra cosa da guardare è il costo dei bonifici, delle operazioni. La maggior parte di questi conti per i giovani hanno i bonifici gratis o comunque hanno un tot di bonifici gratis e noi comunque non penso che facciamo centinaia di bonifici al mese, per cui va bene così. Io con il mio conto Bancasella ho i bonifici gratis, ho visto che il conto Intesa e Fineco hanno i bonifici gratis. Io sono i bonifici istantanei per tutti, penso a pagamento, io li pago un euro e mezzo, però quasi mai uno ha bisogno di fare il bonifico istantaneo. L'ho fatto solo qualche volta per fare lo splendido o quando ho in ritardo, con i pagamenti o qualcosa. Comunque l'idea è che con la maggior parte di questi conti al massimo tra canone del conto e bonifici istantanei e cose del genere andate a pagare tra i 10 e i 30. Io tra una cosa e l'altra ne pago 25, qualcosa del genere l'anno, che ci sta per il conto corrente principale. Un altro punto fondamentale è la facilità di utilizzo, perché il mio obiettivo non è solo spendere il meno possibile per questo conto, ma è anche evitare le rotture di scatole. Io chiaramente, come tutti ormai, odio andare in filiale in banca, penso che sia praticamente insensato. Una volta, cioè, storicamente, la persona andava in banca sotto casa a farsi il conto, diventava proprio amico, il tipo allo sportello. E' una cosa che ha i suoi vantaggi, chiaramente, nella banca popolare del tuo paese che ti conosce. Ormai, però, si fa tutto online. Secondo me questa è una cosa passata, per cui meno possiamo andare in filiale, meglio è. Io, per esempio, sono costretto ad andarci solo ed esclusivamente per gli assegni circolari, che ho fatto solo per l'apertura delle mie SRL. Quattro volte sono dovuto andare in banca a creare l'assegno e anche a depositarlo. Quando ero più piccolino, avevo il conto con poste, dovevo andare in filiale a chiedere l'estratto conto. E tuttora anche alcune banche ti costringono ad andare a filiale per fare un sacco di cose, quindi su questo dobbiamo stare attenti. E' importante che si faccia tutto online, che l'app sia intuitiva, che non sia buggata, che ci si possa entrare sia da mobile che da telefono facilmente. Queste sono le cose che ci interessano. Dopodiché, secondo me, ci sono alcune cose che magari non ci interessano, però le banche ci offrono. Per esempio, la carta di debito. Io, con il mio conto bancasella, ho gratuitamente anche la carta di debito, che non l'utilizzo mai, mai utilizzata, però ce l'ho. Se per qualche motivo mi esplodono, mi si bloccano tutte le mie altre carte, mi rimane quella. Dopodiché c'è la carta di credito collegata. Qua vi direi proprio di non farla, la carta di credito, con la vostra banca. Io so perché ci sono altri circuiti di carte di credito che magari hanno, come American Express, i loro punti, le loro cose. Ha senso fare quelli per collegarli al vostro conto. Però in questo caso dipende dalle singole specifiche necessità. E poi, sempre le stesse banche offrono, da un anno a questa parte, anche l'opportunità di fare il conto deposito. Per esempio c'è BBVA, adesso fa un sacco di pubblicità, perché offre il conto corrente normale, però è da un 4%, quindi è un conto deposito svincolato sulla roba che ci mette dentro. Molto allettante, in questo momento è un'offerta di marketing più che altro, però molto allettante. Però anche là, se siete interessati a un conto deposito, non ha senso farlo subito vendati con la vostra banca, potrebbe aver senso comunque prima guardarvi intorno, vedere l'offerta migliore e poi decidere se farlo con la vostra banca oppure aprire un altro conto. A cosa dobbiamo stare attenti? Innanzitutto le offerte, che da un lato sono una cosa che sappiamo essere momentanea, no? Per cui 10 euro se ti fa il conto, anzi in realtà con le banche tradizionali spesso sono di più 50-100 euro per entrare se ti fa il conto. Oppure il tasso di interesse è super conveniente. Oppure zero costi per un anno o due anni. State attenti a trovarle, dovevi farmi un conto. Prendiamo il conto che mi dà l'offerta più ghiotta, perché tanto spesso tutti i conti sono quelli principali, sono pari a livello di caratteristiche. Sono ugualmente solidi, ugualmente costosi, o quasi ugualmente costosi. Per cui a quel punto mi interessa veramente chi mi dà l'offerta più ghiotta. D'altro canto queste offerte vanno controllate bene, se no poi ci ritroviamo ad avere il conto gratuito per un anno, però poi lo paghiamo uno sproposito. Cosa che può succedere? Oppure c'è scritto interesse del 4%, però poi non è vero, perché è solo a certe condizioni. Seconda cosa a cui stare attenti, sono tutti quanti gli upsell che la vostra banca proverà a farvi. Ora, le banche, la maggior parte delle banche italiane, quelle solide, sono delle aziende. E sono delle aziende in attivo, cioè che guadagnano più di quello che spendono. Che è un'ottima cosa. Quelle solide in Italia, dico eh. Non tutte sono così. Andiamo per assunto che vi siete fatti un conto con una banca solida. Che significa che a differenza delle start-up della serie Convalley non possono regalare soldi ad estremamente, devono anche fare dei soldi. E chiaramente la banca su di voi i soldi non li fa col conto corrente gratuito e con i bonifici a 80 centesimi, ma li fa con cose più complicate, come per esempio magari il mutuo, altri prestiti, gli investimenti, il conto deposito, tutta un'altra serie di cose che magari sono molto più costose rispetto alla concorrenza, che però magari voi accettate per pigrizia perché ormai avete il conto con loro. E invece no, voi da clienti dovete essere furbi. Se il conto è gratuito o costa poco, certo me lo faccio, però poi se mi proponi qualcosa che è troppo costoso rispetto al resto, non me lo devo fare, piuttosto mi faccio qualcos'altro. Un classico esempio sono gli investimenti. La maggior parte delle banche hanno il loro servizio di investimento, cioè il loro broker, i loro conto titoli, che sicuramente sarà solido e tutto il resto, però spesso non è intuitivo, quindi pessima user experience. E poi spesso ha delle commissioni veramente alte rispetto ai broker online che si trovano adesso. L'unico che si salva è Fineco, che effettivamente ha il broker per gli under 30, super economico e tutto, però poi se da un lato economico o dall'altro ci sono altri strumenti e altre cose super costosi che se ci finite pagate commissioni altissime, quindi io comunque opterei per un broker gratuito di quelli classici. Per scegliere il proprio conto della propria banca, quindi cosa dobbiamo fare? Innanzitutto una selezione di nomi. Onestamente c'è le banche italiane non è che sono così tante. Io terrei in considerazione Banca Sella, Intesa San Paolo, Unicredit, Bipair, Fineco, non so che mi sto perdendo tra le banche principali italiane, ma sono queste. Io andrei a vedere cosa offrono come conto corrente standard, se ci sono offerte, spesso ci sono, quanto costa il canone, quanto costano i bonifici e basta, abbiamo fatto. Se siamo proprio scrupolosi, scrupolosi, possiamo andarci a vedere la recensione online prima di farcelo, quello che abbiamo deciso di farci. Però io non sono così scrupoloso. La mia teoria è che comunque sono tutti i conti simili, possiamo anche scegliere in maniera grossolana, non ci andrà poi così male, non dobbiamo farci venire fegato amaro con queste scelte. E soprattutto, dopo che abbiamo fatto un conto corrente, specialmente il nostro conto corrente principale, e poi arriva un'offerta di un altro conto che, oh, c'è 10 euro in più di bonus, non dobbiamo mangiarci le mani, chi se ne frega se ci siamo persi l'offerta di marketing del nuovo broker, non saranno quei 10-50 euro a cambiarci la vita. È più il tempo speso a cambiare tra un conto e l'altro. Vale molto di più la nostra sanità mentale, direi vabbè basta, sto tranquillo. Inoltre, attenti perché anche se le app sono sempre più facili da utilizzare e i conti sono sempre più facili da aprire già dal telefono, sono dei veri e propri conti con tutte le conseguenze del caso. Per esempio, dichiarazione di redditi, imposte di bollo, eccetera eccetera. Inoltre, la sicurezza è importantissima, quindi sempre doppia autenticazione per le app bancarie e non password a caso. Poi, se volete aumentare ancora di più la vostra sicurezza, utilizzate NordVPN, come faccio io, per esempio in viaggio, come adesso che sono in hotel e sono connesso al wifi dell'hotel e accedo a tutti quanti i miei conti bancari, metto le credenziali dei miei conti dal mio computer e dal mio telefono, sempre e comunque. Con NordVPN la mia navigazione è criptata, l'internet provider non può vedere dove navigo e inoltre non è più una semplice VPN. NordSecurity a tutta un'altra serie di servizi. Ve lo ho raccontato nel video invocato in NordVPN che trovate sul mio canale. Andatelo a vedere. Inoltre, con l'offerta attuale è incluso oltre a NordVPN anche NordPass per poter gestire le password in tutti gli account. Inoltre, se andate in descrizione trovate l'offerta migliore in assoluto per avere uno sconto esclusivo più 4 mesi extra sui piani biennali. Tutto in descrizione. Quindi, abbiamo scelto il nostro conto principale, il nostro conto corrente che è fantastico per le cose tradizionali come appunto lo stipendio, tenere la liquidità, pagare l'F24, queste cose qua. Ma non è il massimo per le spese di tutti i giorni. Per cui, ha senso avere invece il classico conto smart, la carta conto, che invece è veramente molto utile, devo dire. Funziona molto molto bene nella vita di tutti i giorni e nelle piccole transazioni che si fanno nella vita quotidiana. Questi conti smart che in realtà si chiamavano al tempo Challenger Banks sono queste Neo Banks, banche digital, che sono esplose negli ultimi 6 anni, 6-7 anni. La prima a nascere penso sia stata Revolut che ha aperto le porte poi a tutte le altre. In Italia è arrivata Revolut e nelle 26 che sono straniere, Revolut è inglese, nelle 26 è tedesca e poi sono nate quelle italiane. A differenza di quelle straniere che sono nate come delle start-up, quelle italiane sono nate come delle mini-banche dentro le banche più grandi, delle start-up però dentro delle aziende. Per esempio Buddy Bank è di Unicredit, Easy Bank è di Intesa, Flowey è di Mediolanum, Hype è nata da Banca Sella, Tineba è un po' un ibrido ma comunque è in partnership con Banca Profilo. Per cui le Neo Banks in Italia sì, sono piccoline ma sono comunque solide perché nella maggior parte dei casi attingono ai soldi della mamma banca. da zero però nel senso di Corrado Passera che non si appoggia a nessuna mega banca italiana che io sappia. Cosa hanno in comune tutti questi conti smart? Beh innanzitutto che sono tutte aziende in perdita. A differenza delle banche tradizionali come dicevo prima che devono avere il bilancio in positivo, queste neo-banche sono percepite come delle start-up quindi va bene che siano in perdita. Revolut stessa che è la più grande al mondo o la più valutata al mondo perde molto di più di quello che guadagna. Ma va tutto bene e ci sta perché come Amazon, come Google come tante altre start-up per anni perdono soldi e poi dopo guadagnano. Bisogna capire come molti se lo chiedono però adesso si concentrano sull'acquisire tanti 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 clienti e per acquisire tanti tanti clienti offrono conti gratuiti, bonus di entrata e tutte le cose che conosciamo. È per questo che negli ultimi anni stanno spopolando tutte queste carte e ogni anno c'è la carta che offre il bonus più alto 10 euro, 20 euro, 30 euro, 40 euro le Airpods tutte queste cose qua. Ad oggi sono praticamente tutte uguali. Sono ottimizzate principalmente per il mobile per il telefono dove puoi gestire il tuo conto dal quale potrai inviare i soldi dei tuoi amici che hanno la tua stessa app potrai fare i bonifici potrai ricaricare il tuo conto con Apple Pay e avrai la carta collegata con cui puoi privare l'ATM pagare al bancomat pagare con il post eccetera eccetera. In gergo quando ci sono tanti prodotti che sono molto simili e l'unico criterio con cui sceglierli è di fatti scegliere quello che costa meno si dice in gergo che stiamo parlando di una commodity come il latte o come l'acqua che non è che sono innamorato di un brand di latte o un brand di acqua in particolare compro l'acqua che costa meno o quella che trovo al supermercato insomma. È un po' così sia con conti che con le carte se vai a vedere i principali e i più solidi si assomigliano tutti a livello di funzionalità a livello di costi eccetera eccetera. D'altro canto ci sono delle differenze quindi andiamole a vedere per esempio Hype che è l'app di bancasella negli anni si è un po' più concentrata sul pubblico più giovane infatti non è propriamente un conto carta se non sbaglio ma è una prepagata o forse ha entrambe le cose sia il conto che la prepagata la differenza è che la prepagata se la possono fare anche i minorenni che possono farsi anche gli app per esempio infatti Hype se vediamo il conto base è quello con i limiti più grandi puoi prelevare la ATM solo fino a una certa cifra puoi ricaricare la carta solo fino a una certa cifra all'anno dopodiché o ti blocchi oppure passi a piena pagamento alla carta a pagamento io sono solo penso uno dei primissimi clienti di Hype quando è nata ottimo nuovo prodotto un'altra cosa che dobbiamo stare attenti sono per esempio le commissioni sul cambio valuta chi viaggia tanto come me per esempio nel momento in cui viaggio predilige Revolut perché è l'app per eccellenza che è nata proprio con la differenza rispetto alle altre carte che non aveva commissioni sul cambio valuta o anzi proprio sul cambio valuta ti faceva il cambio più conveniente che poteva questo sia se pagavi al POS tipo a Bali pago il mio maccialatte con il POS oppure sia se devo prelevare i contatti all'ATM all'estero in entrambi i casi con Revolut non avevo commissioni sul tasso di cambio tutte le altre carte generalmente invece hanno una commissione sul tasso di cambio quindi quando ho gli euro per esempio sul conto ma devo pagare i yen al POS o alcune volte quando devo prelevare un ATM all'estero quindi quando sono in Cina devo prelevare una valuta che non è all'euro e mi applicare le commissioni sul prelievo generalmente sono in commissioni comunque bassa che non fanno la differenza quindi a meno che non siete un uomo dei digitali non cambia quasi niente se come me vi piace trovare l'offerta migliore la carta più carina e risparmiare qui 10 euro a fine anno ha senso farlo ci sono poi altre opzioni carine come l'opzione salvadanaglio sia N26 se non sbaglio l'opzione Spaces sia Revolut alla Casse Forti Inabai salvadanai non so se anche le altre ce li hanno però la possibilità di mettere da parte i soldi e non utilizzarli e non vederli sul tuo conto quindi creare altri salvadanagli questo è molto utile secondo me per esempio per mettere da parte soldi e le tasse in questo modo non ti devi creare un account a parte teni tutto nel salvadanaglio poi a fine anno poi un bonifico sul conto principale perché spesso sulla carta non puoi pagare l'F24 altre funzionalità carine di queste carte è la possibilità di avere delle carte extra o addirittura delle carte temporanee che si autodistruggono per fare acquisti più di sicurezza online secondo me roba superflua alcuni conti carta commissioni più basse sarà un servizio più completo i conti carta offrono questo servizio ma spesso a commissioni troppo alte non ci sono abbastanza strumenti ed è pensato più come strumento di marketing per attirare persone che frattuto da mobile ma gli strumenti sono una cosa seria meglio farli da desktop con le opportune ricerche eccetera eccetera uguale per la funzionalità crypto ti avrei voluto che Tineba offrono l'opzione di comprare le crypto secondo me insomma come sapete se veramente volete comprare le crypto veramente ci credete ha senso farlo con il vostro diciamo wallet personale che succede dai conti carta se compri le crypto non stai veramente comprando le crypto non puoi trasferirle poi su un portafoglio tuo per cui sconsiglierai di farlo al contrario invece gli investimenti di Tineba devo dire sono forse tutti i conti carta gli unici sensati da avere perché effettivamente è un vero e proprio robot advisor diciamo Tineba rispetto a tutti questi conti carta è rossamente la più completa anche se è un conto italiano perché non solo ha la carta ma ha anche il robot advisor ha la possibilità di pagare i bulletti di pago PA come filosofia quella della super app quindi avere tutto 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 il conto in una sola app infatti io in realtà come conto carta smart utilizzo Tineba anche adesso che non mi sponsorizzano perché la trovo veramente comoda la utilizzo anche con la mia ragazza abbiamo il nostro conto in comune per fare la spesa però vabbè non è una sponsor per Tineba ho anche Revolut per i viaggi e poi tutte le altre carte che mi hanno fatto per provare le ho eliminate se dovessi fare il podio di questi conti smart metterei al primo posto probabilmente Revolut l'unico difetto vero di Revolut è che ha il conto non in Italia è il Liban lituano se non sbaglio che non è carino secondo me non so se crea problemi a me non ha mai creato problemi però so che alcune volte la gente ci tiene ad avere il conto in Italia cioè il Liban italiano forse in dichiarazione dei redditi è una cosa che va a dichiarare in un altro posto che il conto all'estero anzi senza forze al secondo posto metterai Tineba che mi sembra in Italia l'app più completa l'unico difetto vero di Tineba è che è piccola cioè mentre Revolut io vado in tutto il mondo e so che la gente che ha Revolut mi è successo di incontrare in viaggio persone che magari pagano la cena per tutti io gli do i soldi su Revolut e do spero assunto che hanno Revolut ok? cosa è bello il peer-to-peer di Tineba è utile fino a un certo punto perché se poi gli altri non hanno Tineba io il conto in comune con loro io li posso far fare solo se gli faccio fare Tineba no? è uguale per il peer-to-peer uguale per il resto diciamo questo è un bel difetto perché non c'è tanta economia di scala però invece l'app mi piace molto è molto completa tra tutte quelle che preferisco devo dire dopodiché ci sarebbe N26 che io devo dire ho molto apprezzato negli anni purtroppo adesso N26 da una netta a questa parte non ci si può fare proprio l'account è bloccata in Italia nulla di grave però non si può fare io ho chiuso il mio account ma non perché andasse male ma perché ne avevo già due non ha senso avere il terzo uguale Buddy Bank è molto buona in Italia avevo anche il conto con Buddy Bank conto italiano gratuito devo dire comodo molto comodo come Tineba devo dire Flowey invece è un pochino inferiore rispetto alle altre probabilmente migliorata perché il mio unico feedback è di quando era proprio Neo Neo appena nata dopodiché ce ne sono anche tante altre ma non ve le nomino perché appunto quelle che sono le migliori secondo me ve l'ho già detto il limite addirittura è a pagamento quindi secondo me non ha senso perché le altre sono gratis Easy Bank non ha praticamente funzionalità quindi secondo me non ha senso farsela se non che se sei cliente intesa vieni migrato già su Easy Bank se non sbaglio hai la stabilità di Intesa San Paolo alle spalle ma è l'unico grosso vantaggio ma per ora in Italia se dovessi partire da zero probabilmente mi farei se devo viaggiare Revolut se devo stare in Italia Ottina Baoba di Bank oppure se sono ancora ragazzo hype so che Postpay è migliorata io purtroppo ho la brutta esperienza della Postpay Evolution che non solo costava un euro al mese ma dovevo andare in filiale era scomoda quindi l'ho levata so che adesso c'è la versione smart app anche per poste non la conosco trovo difficile che sarà pratica, conveniente utile come queste qua come sapete alcune di queste carte hanno anche la versione a pagamento il pieno premium il pieno metal ha senso farselo? secondo me no perché offrono cose che puoi già ottenere in altro modo per esempio l'assicurazione le lounge all'aeroporto che però comunque devi pagare oppure ti sbloccano dei limiti di ricarica di cui però la maggior parte delle persone non hanno bisogno quindi secondo me conviene avere un conto gratuito insomma non la versione a pagamento se viaggiate tanto se avete budget da spendere a questo punto ha senso posso passare una carta di credito ad American Express quella che mi sono fatta quest'anno perché è molto conveniente per chi viaggia tanto per lavoro io che faccio tanti viaggi per lavoro uno al mese di media mi sono fatto l'American Express platino che costa tipo 700 euro l'anno che però paradossalmente tornano tutti se la sfrutti al meglio io la sfrutto al meglio? assolutamente no io sono un pollo io me la sono fatta e la sfrutto pochissimo ma se la sfruttassi mi tornerebbero tutti perché ho tutte quante le lounge gratuite ho il priority pass per cui alla fila di controlli dura molto di meno le lounge sono gratuite e gratuite non è che ho solo l'accesso padevo pagare gratuito tutto ovunque ho fatto l'upgrade in business con l'American Express platino con i punti c'è tutto il sistema dei punti che funziona esattamente come le compagnie aeree tutto ciò che compri con l'American Express ti dà punti che puoi utilizzare mille mandi diversi hai sconti di ogni tipo ristoranti cose che comunque sono costose quindi ha senso per persone altospendenti che spendono tanto per lavoro tipo youtuber che vanno tanto in viaggio per lavoro sembra fatta pasta per youtuber onestamente bene ci sono sicuramente altri conti altre carte che non ho nominato ma se avete capito quello che ho detto in questo video non serve nominarli non ha senso che in questo video mi diciate ah Marcello non l'hai nominato yap il conto BBVA avete capito no? l'obiettivo di questo video è più spiegarvi il criterio dietro no? del singolo conto che oggi è un'offerta domani è un'altra offerta spero di essere stato utile spero di avervi chiedito le idee se stavate cercando di farvi un conto o una carta è un video molto base penso che una bella fetta del mio pubblico queste informazioni già le sapevano ma è un video più generico per un pubblico più generico farò un episodio verticale solo su Trader Republic cercando però di spiegare come scegliere un broker quali sono i criteri da guardare applicherò poi il criterio a Trader Republic ma voi potrete applicarlo a qualsiasi altro broker scrivetemi cosa ne mettete in un commento e ci vediamo con il prossimo video